Con il filato bianco e l'uncinetto numero 3 e mezzo avviamo 11 catenelle. Saltiamo 2 catenelle dall'uncinetto, 1 e 2 e sulla terza andiamo a realizzare una maglia bassa. Continuiamo realizzando 7 maglie basse, 1 su ogni catenella sottostante, 1, ci rimane una catenella su cui lavorare e andiamo a realizzare 3 maglie basse. Continuiamo con 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Alla fine del giro realizziamo 2 maglie basse nello stesso punto. Con un filo di diverso colore segniamo l'inizio di ogni giro, continuiamo con un aumento, 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5, 7 e 8, 6, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 12, come up roadside. un aumento, 8 maglie basse, 1 aumento, 1 maglia bassa, per un totale di 26 maglie basse nel giro. 1 maglia bassa, 1 aumento, 8 maglie basse, 1 aumento, 1 maglia bassa, 1 aumento, 1 maglia bassa e 1 aumento. 8 maglie basse, 1 aumento, 1 maglia bassa e 1 aumento. Abbiamo un totale di 32 maglie basse nel giro. Ripetiamo 32 maglie basse per i prossimi 3 giri. Dopo aver realizzato i 3 giri di 32 maglie basse, ricominciamo il giro con 1 maglia bassa, 1 diminuzione, 8 maglie basse, 1 diminuzione, 1 maglia bassa, 1 diminuzione, 1 maglia bassa e 1 diminuzione. 8 maglia bassa. una diminuzione una maglia bassa e una diminuzione abbiamo un totale di 26 maglie basse nel giro ripetiamo 26 maglie basse per i prossimi due giri dopo aver realizzato i due giri di 26 maglie basse ricominciamo il giro con una diminuzione 8 maglie basse una diminuzione una maglia bassa una diminuzione 8 maglie basse una diminuzione e una maglia bassa per un totale di 22 maglie basse nel giro terminato il giro con 22 maglie basse ripetiamo 22 maglie basse ripetuto il giro con 22 maglie basse ricominciamo il giro con una diminuzione 7 maglie basse una diminuzione una diminuzione un'altra diminuzione 7 maglie basse una diminuzione una diminuzione per un totale di 18 maglie basse nel giro continuiamo con una diminuzione 5 maglie basse una diminuzione un'altra diminuzione 5 maglie basse una diminuzione per un totale di 14 maglie basse nel giro continuiamo con una diminuzione 3 maglie basse una diminuzione un'altra diminuzione 3 maglie basse e una diminuzione per un totale di 10 punti nel giro continuiamo con una diminuzione una maglia bassa una diminuzione un'altra diminuzione una maglia bassa e una diminuzione arrivati a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro con il filato nero e l'uncinetto numero 3 e mezzo avviamo 11 catenelle saltiamo 2 catenelle dall'uncinetto 1 e 2 e sulla terza andiamo a realizzare una maglia bassa continuiamo a realizzare una maglia bassa su ogni catenella sottostante fino alla fine della riga per un totale di 10 maglie basse catenella voltiamo il lavoro e continuiamo a realizzare 10 maglie basse per le prossime 14 righe di andata e ritorno e continuiamo a realizzare a presto Grazie a tutti.